Focus. La proposta di legge per il riconoscimento della lingua dei segni ha iniziato il suo percorso in aula nella seduta del 6 giugno. Dopo il respingimento di una questione pregiudiziale della consigliera Artesio sono state svolte le relazioni introduttive da Gianna Pentenero di opposizione e Mario Carossa di maggioranza. Il dibattito sul provvedimento composto di quattro articoli prosegue nelle prossime sedute.